P-P-P-P-Pinipon, I feel you are my love, I love you, Pinipon Hai sentito Rainbow? Non ho sentito nulla, ero congiuntata sul mio libro Ho sentito un'interferenza e poi un miagolio Sarà un gatto d'andaggio Iris, io non ho sentito niente Socks! Che pulsante hai premuto? Oh! È il walkie-talkie, Iris! È il walkie-talkie! Ciao! Ciao! Qui parla Buzz Lightyear, a comando stellare! Hai capito chi è Rainbow? Questo è impossibile! Come fa a comunicare con noi dallo spazio? Qui parla Iris, dal pianeta Terra! Temo di non essere chi ti aspettavi! Va bene, comandante Iris! Ho bisogno urgentemente del tuo aiuto! Eh, non credo tu ti stia confondendo! Non c'è tempo da perdere! Zurg e il suo esercito di robot hanno lanciato un missile sulla nostra navicella e ha danneggiato il portellone di sicurezza! Dovresti parlare con il comando stellare! Sono giorni che non riesco a far funzionare i dispositivi di comunicazione! Non ho più tempo! Dobbiamo sostituire il motore della navicella, ma non dispongo degli attrezzi adatti! Dovete costruirne uno nuovo dalla Terra! E come faccio? Puoi trovare una planimetria in scala della navicella nella Pini Agenzia Spaziale! Lì ci sono tutte le misure! Io non credo di riuscire! Sei la mia unica opzione, comandante Iris! Sono sicuro che non sia stata un caso la nostra sintonizzazione! Fidati delle tue capacità! Va bene Buzz, vado a cercare i rinforzi e parliamo dopo! Splendido! In squadra si lavora meglio, comandante! Passo e chiudo! Iris, ma come facciamo a... Con l'aiuto dei bambini del canale e con l'aiuto delle bambine, ovviamente! Sono sicura che ci riusciremo! Amiche! Ho bisogno di voi! E anche di molte iscrizioni! Ma cos'è successo? Oh, finalmente siete qui, ragazze! Ho preso le planimetrie! Ho portato i libri di matematica e fisica che mi hai chiesto! A me tutto questo sembra una pinifollia! Elsa, siamo l'unica risorsa di Buzz per far sì che torni a casa! Dobbiamo dare il 200% per aiutarlo! Iris ha ragione! Non possiamo gettare la spugna, Elsa! Va bene, ragazze! Mi dispiace essere pessimista! Mettiamoci all'opera! Secondo la scala, la misura sarebbe di 1 a 30 rispetto alla misura della navicella! Questo ci dice che, stando alle misure, sarebbe questo per questo per la tradizione quadrata di 30? Vai così, cervellona! Dividiamo per l'altezza! Dividiamo per l'altezza... Va bene, ci sono! Davvero? Sei un fenomeno, Kami! Ora non ci resta che costruirlo! Occupiamoci della pratica! Questo va saldato bene! Facciamo passare il filo sotto questa placca! Sì, finalmente è arrivato il cibo! Ordine per Iris White! Oh, Nicky! Che bello vederti! Nicky, entra pure! Non sapevo lavorasti anche come rider! Sì, devo guadagnare un po'! Che fate, ragazze? Magari può suonare strano, ma stiamo costruendo un motore elettrico per una navicella spaziale! E non sta funzionando, vero? Per ora non ci stiamo riuscendo! Certo, ragazze, avete messo i fili al contrario! Come? Bisogna collegare il giallo al posto del nero e viceversa! Funziona! Hai appena salvato la vita di Buzz Lightyear! È la nostra! Corri, Iris! Chiama Buzz! Oh, è vero! Qui il comandante Iris ha rapporto, soldato Buzz Lightyear! Mi ricevi? Buzz? Oh no! Lo abbiamo perso! Ai 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 ai! Lightyear! Mi ricevi! Iris, prova a cambiare la batteria del walkie-talkie! Qui Iris ha Buzz Lightyear! Mi ricevi? Qui Buzz! Qui Buzz! Mi dica comandante Iris! Sono impaziente! Abbiamo il motore! Questo è Pini Fantastico! Ora dovete solo mandarmelo! Oh no, ragazze! Questa cosa continua a complicarsi! Abbiamo bisogno di molti mi piace per riuscirci! E' un proiettile con forza sufficiente ad entrare in orbita! Un momento, ragazze! Bisogna farlo all'aperto! Andiamo al parco, ragazze! Useremo il tappetino elastico! Con questo arriverà alle stelle! Non è sufficiente! Abbiamo bisogno di qualcosa che ci dia una spinta maggiore! Ce l'ho! Spostatevi, ragazze! Accendo la miccia! Che caos! E ora cosa facciamo? Credo che la soluzione si trovi in questa vecchia ferrovia! Ho un'idea! Svelte, ragazze! Abbiamo i minuti contati! Era proprio quello che pensavo! Se aiutiamo il proiettile a prendere impulso all'inizio, dopo basterà il potenziamento dei binari! Splendida idea, amici! Facciamolo! Sì! Sì! Fantastico, ragazze! Che squadra! Comandante Iris a Buzz Lightyear! Proiettile in modalità aerea quasi in orbita! Sapevo di poter contare sulla tua squadra Grazie intergalattiche Oh! Dalla navicella vedo un oggetto che si avvicina Ai 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 Missione compiuta! Equipaggio pronto per l'operazione di ritorno alla Terra Verso l'infinito e oltre! Ci siamo riuscite! Sì! Wow! Verso l'infinito e oltre!